Cos'è il blocco cardiaco di terzo grado? Il blocco cardiaco di terzo grado è un disturbo del cuore in cui il battito cardiaco diventa disorganizzato perché il segnale di pacificazione generato negli atri non passa ai ventricoli, consentendo a atri e ventricoli di battere indipendentemente. Di solito è necessario trattare questa condizione con un peso maker artificiale per regolare il battito cardiaco. La causa più comune di blocco cardiaco di terzo grado è l'ischemia cardiaca, in cui il flusso di sangue e il muscolo cardiaco viene interrotto e di conseguenza vengono danneggiate parti del cuore. In un individuo sano, il battito cardiaco ha origine nel nodo seno atriale, nodo SA, e viaggia attraverso i ventricoli, coordinando il battito cardiaco. In una persona con un certo grado di blocco cardiaco, il segnale viene interrotto o rallentato. Nel caso del blocco cardiaco di terzo grado, noto anche come blocco cardiaco completo, il segnale non passa affatto. Un pace maker naturale secondario nei ventricoli si accende da solo, inducendoli a battere in un ritmo completamente diverso. Un paziente con blocco cardiaco di terzo grado sperimenterà sintomi come dolore al petto, respiro affannoso e sudorazione eccessiva. Su un elettrocardiogramma, si vedranno due diversi modelli, che riflettono gli sforzi non coordinati degli atri e dei ventricoli. I farmaci possono essere somministrati o ritirati, se i farmaci sono la causa del blocco cardiaco. La stimolazione artificiale, di solito prima con un pace maker temporaneo, viene spesso utilizzata per stabilizzare il battito cardiaco. Se il paziente non migliora in modo indipendente, può essere impiantato un pace maker permanente per regolare il ritmo cardiaco del paziente. Con un pace maker meccanico in posizione, un paziente con blocco cardiaco di terzo grado dovrebbe essere stabile e può impegnarsi in normali attività una volta recuperato dalla chirurgia del pace maker. Un medico può raccomandare di riprendere lentamente le normali attività per dare al corpo il tempo di adattarsi. Allenarsi come nuotare o camminare può essere utile per essere attivi dopo un intervento chirurgico al cuore e mantenere il sistema cardiovascolare il più sano possibile. Le persone con una storia di problemi cardiaci sono più a rischio di sviluppare un blocco cardiaco di terzo grado. Le condizioni cardiovascolari note per causare ischemia, come la malattia coronarica, sono un fattore di rischio significativo. Gestire le condizioni cardiache e promuovere la salute cardiovascolare con l'esercizio fisico e una dieta equilibrata aiuterà i pazienti a ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiaci e limiterà la gravità dei problemi cardiaci in corso. Si consiglia inoltre di consultare regolarmente un medico per la valutazione per determinare se le condizioni di un paziente stanno cambiando e apportare modifiche ad un piano di trattamento di conseguenza.